Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti signori Allora, come al solito, prima di partire dal video io vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ricordo di fare un salto sul mio secondo canale, mi trovate come Maullo941bis in cui portiamo altri gameplay e altri videogiochi Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook Dove appunto sui social vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live Sia su questa piattaforma che su quella viola Di solito qui su YouTube mi trovate ogni sera, eccetto il sabato, alle 21 Minuto più, minuto meno, per giocare assieme, signori Ultima cosa, date un'occhiata ai link in descrizione al video Per rimanere sempre in contatto sia con i miei abbonati che con le informative per informazioni varie per il canale Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video Ok, l'altra volta ci siamo lasciati proprio qui, signori Nella schermata perché erano tornati tre osservatori Allora andiamo a vedere che ci hanno portato di bello Torres dalla Russia ci ha portato Galerkin 6884, già il terzo mese che lo seguiamo, che lo seguiamo, no signori Deve avere un overall di 75, sì 75, di 90, dal 90 a salire Chekov, no, bocciatissimo, 15 anni, 250, non era male ma lo bocciamo Grinkov, 57, 77, inguardabile Nakimov, 58, 80, no Shakodanov, 54, 72, no Uno da prendere, Stepanenko, 60, 82 Stepanenko sembrerebbe carino ma no Abbiamo detto che deve avere un overall da 90, massimo da 90 a salire, signori Dall'Estonia, Rebane, 69, 93 Ecco, Rebane lo possiamo continuare a seguire 15 anni, lo teniamo lì, Rebane potrebbe essere interessante Mannic, 62, 84, no Via Mannic Copper, oh, Copper, un 47, 65, mamma mia, via E Harma, 72, 94, a 16 anni, 2, 75, non è male Non è per nulla male, Harma Continuiamoli a seguire, signori, continuiamoli a seguire, ok E poi abbiamo Glover Che dalla Sveccia ci ha portato Bjork Bjork, che è un 82, no Poi abbiamo Manson, che è un 79, no Gustafsson, 66, 90 No, amico mio No, 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 no È Nordin Nordin 63, 85 Non dovete impegnarvi di più Non mi avete portato gioco dei assurdi Facciamo un attimo un salto nella primavera, signori Voglio vedere se c'è qualcuno che è effettivamente interessante O dobbiamo liberare le situazioni Abbiamo il portiere Che c'è un gran fondoschina Fondoschina, lo chiameremo fondoschina Il nostro portiere dell'Estonia Fondoschina E non temerebbe male 71, 87 Buono Mekni Mekni mio Sei ancora a 49 Sta cambiando il ruolo Ma sei inguardabile, zio Lo Schenko Mi avete scritto? Come si legge nei commenti Ma non lo so pronunciare, signori Lui sta cambiando il ruolo È tanta roba Yevtushenko 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 Il nome è impronunciabile Yakeslav Yevtushenko Mamma mia Comunque lui lo teniamo Pur di Pur di Pur di Pur di giocare Questo è disposto a far tutto, signori Questo pur di giocare Si è messo già il cappellino Va bene Lui lo teniamo come mascot Come futura mascotte Nordstrom Questa era pure forte 71, 91 Nordstrom Dai Dai, forse sta crescendo Facciamolo crescere Continuiamo a farlo crescere Piedebole 5 stelle Porca miseria Milne L'esterno destro Milne 82 E un 50 Milne mio Grazie per aver partecipato Non sei buono a nulla Questo giocatore Se accetti Non potrei più No Ciao Milne Ci teniamo Il nostro Benjamin Barrett Signori Che comunque già è un 54 Sta puntando al 55 Ha un potenziale fra l'81 e l'87 Non è proprio da scartare Non è proprio da scartare Va bene Ok Detto questo Allora Ordine delle situazioni Che abbiamo noi in campo? Giardino Mooney Wilding Sullivan Scott Stoccon Va bene Andiamo avanti con loro Signori Così si allenano Si allenano anche un po' Con loro Noi siamo ottavi Con 19 punti Dopo 12 giornate Non siamo messi benissimo No no Invece siamo proprio messi bene Dai Comunque nella prima stagione In League One L'obiettivo è puntare Al playoff L'obiettivo è puntare al playoff Come l'anno scorso Dai Dai che ce la possiamo fare Prossima partita in campionato Contro chi la giochiamo? Lo conosco Quel simbolo che è apparso Lo riconosco Ma non Ma non Deve essere Wolf Una cosa del genere Chi so Sono i Ah no L'Al City Ed è quarto In classifica Questo è uno scontro diretto Contro Con Con Signori Allora Nessuno mi sta chiedendo di giocare Quindi io direi Spike si va a fare un giro E torna a Loree Perché Loree È tutta altra cosa Signori Loree è tutta altra cosa Mellor Clark Lavello Leviamo Lavello E facciamo giocare Greves Che sta la nostra La nostra coppia del futuro Signori Stevens Va bene Giardino Mooney Wilding Sullivan Scott E Stockholm Allora Leviamo Scott E facciamo giocare Alladino Diamo un turno di riposo Scott lo leviamo E ci portiamo Le Smith Che entra nel secondo tempo Miura Stasene sta a casa Gibson Che non Va bene Va bene Va bene così Signori Formazione pronta Concentrati Easy Beasy E andiamo subito in campo E godiamoci la partita Signori Sperando di portarci a casa Tre punti Che sarebbero Manna dal cielo Signori Ok signori Ci siamo Si parte Si parte Concentrati Con calma Da quanto dicevano Prima nel pre partita Siamo la miglior Il miglior attacco Contro la miglior difesa Quindi Sarà una gran bella partita Signori Tra loro che si chiuderanno Benissimo E tra noi Che punteremo A segnare Come se non ci fossero domani Grandissimo Intervento Occhio 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 Questi partono già Col peperoncino Col peperoncino Super Il fondo schiena Ecco Diciamolo così Dai Ripartiamo Ripartiamo Dai Dai Giardino 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 Si è liberato bene Giardino Si è liberato bene Guarda il passaggio Al centro Dove cazzaro Dove cazzaro Allora vai Sto con Devo bippare quella Devo un attimino bippare Piccolo No 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 Sto ripartito 3 contro 1 Signori 3 contro 1 3 contro 1 3 contro 1 3 contro 1 3 contro Grandissimo Grieves Grande Grieves Grande salvataggio Di Grieves Calcio d'angolo per loro Attenzione che Questi sono pericolosi Non per nulla Sono quarti In classifica Occhio al mio portiere Calma No no Ma perché subito così Ma perché 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 Stevens Cerca Cerca e trova Giardino Giardino per Stockholm Stockholm Aspetta il momento di Stevens Gli è lato sulla corsa Grandissimo Giardino Vai Giardino No Giardino mio Aspetta ma chi c'hanno Superman su quella fascia Cioè Giardino è veloce Quello gli ha elevato la palla Come se C'era C'era Flash C'hanno Flash Su quella fascia Ma di che stiamo a parlare Dai Giardino No 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 Attenzione ancora Allora Al limite dell'aria Si spostano sulla fascia Ai 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 Troppe maglie gialle Troppe maglie gialle Sono tutte dentro l'area di rigore Meno mani hanno Continuano ad avere i piedi storti Signori Non strusciamo una palla Cioè Sono Sono velocissime Nelle azioni Non riusciamo a strusciare una palla Sosa Non mi piace per nulla Però va bene Attenzione Stocco non parte sulla fascia Però il piccolo Luna Non gli la dà Non gli la dà il piccolo Luna Il piccolo Luna non gli la dà Con calma Giardino 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 Vede Stevens 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 Eccetera Stevens Stevens Grandissimo Stevens Se è andato sulla fascia Stevens Stevens Ma chi È fuori gioco Non è vero No È buono È buono È buono È buono È buono È buono Grandissimo Tirela No No, cosa abbiamo sbagliato Cosa abbiamo sbagliato Dai, 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 dai Calcio d'angolo vicino, calcio d'angolo vicino Giardino Giardino per Sullivan Sullivan, 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 Sullivan Che si accentra Sullivan, 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 Sullivan Lo zio sally, lo zio sally Fa troppe cose lo zio sally Lo zio sally fa troppe cose Ma vede piccolo melone, piccolo melone, piccolo melone Staccone Morecambe in vantaggio signori Spettacolo, Stocco, la sblocca lui Con un gol di Con un gol di Merda, ecco, sì Quello lì, va bene però, 1-0 per noi Grandissima l'azione Grandissimo, bravissimo lo zio Che poi comunque la palla è arrivata a Mellor Mellor, perfetto Al centro per Stocco, che la sblocca lui 1-0 per noi, bella così Ha munito Sullivan per un fallo inesistente Signori, punizione loro Attenzione, hanno l'albitro a favore Comunque, hanno la non-loverrate Grandissima la nostra difesa, come usciamo bene Signori, vai piccola luna Vai piccola luna, vattene, 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 vattene Non ti preoccupare, non ti preoccupare, vai, vai, vai Vai piccola luna, dai piccola luna Dai piccola luna, dai piccola luna, dai piccola luna Va bene, va bene, non ti preoccupare, non ti preoccupare, torna indietro Torna indietro, torna indietro Guarda il movimento bellissimo Di Aladino, che Cazzarola fai, Aladino No Ma che ha fatto Voleva farlo scavetta, ha fatto la cacata Più terribile Eh va bene, eh va bene, eh va bene, dai Vicinissima al 2-0 La potevamo chiudere, signore La potevamo chiudere Se Aladino non faceva sta Sto erroraccio Attenzione però Stoccon, stoccon, stoccon Stoccon mio Ma perché non cali che ti stava a toccare il rigore Ma porca miseria Mannaggia, mannaggia, ci stiamo mangiando l'impossibile, signori, se questi nel secondo tempo ce la pareggiano subito, dico non ci lamentiamo perché ci siamo mangiati l'impossibile Ci siamo mangiati, vabbè che è quasi ora di cena quando sto registrando sto video, signori Ma non possiamo mangiarci No, 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 guardalo, guardalo, guardalo Mamma mia Mamma mia, mamma mia Dai, Albitro è finito, Albitro Albitrino è finito Beh, dai, 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 andiamo col secondo tempo, signori Allora, con calma Con calma che adesso su quella fascia Ecco, appunto Su quella fascia c'è lo zio sale Ma già si è vista la prima caccata che ha fatto Occhio, 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 occhio alla mia difesa Occhio alla mia difesa Leva gliela Leva gliela No, no, no Che ve avevo detto io? Che ve avevo detto io? Che ve avevo detto io? Se questi la pareggiano subito All'inizio e al secondo tempo Non ci dobbiamo lamentare Mamma, però dai, che fortuna Sul rimpallo l'hanno pareggiata Mannaggia a loro Mannaggia a loro Attenzione ancora a loro Su quella fascia Attenzione Melone, non te lo perdere Melone, non te lo perdere Melone, non te lo... È fuori gioco Ma era fuori gioco come una... Mmm Era fuori giochissimo Era fuori giochissimo Però va bene Però va bene L'ho detto Ci hanno l'abito a favore L'ho detto No, il terzo pareggio Non lo accetto, signori Il terzo pareggio Non lo accetto Tre pareggi su tre Dai, 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 dai Grande, zio Grande, zio Dai, grande, zio Dai, grande, zio Dai, grande, zio Dai, zio Dai, zio Dai, zio Sterza Sterza in maniera prodigiosa Dai, dai, dai 2-1 Toglio così Toglio così Il Quacquaman Gaglie 1-1-1 Giardino Dai, così Tre punti importantissimi, signori Tre punti importantissimi Tre punti importantissimi Bellissima l'apertura su Giardino E Giardino trova il suo Fernao Primo gol Il suo primo gol Pensavo avesse fatto più gol Invece il suo primo gol Buono, però, signori Non possiamo subire i pareggi E poi darci la svegliata Dopo che pigliamo il pareggio, signori Non possiamo Non si va da nessuna parte Con questa mentalità Con questa mentalità Non si va da nessuna parte Nessuna parte Occhio a loro Occhio a loro Grandissimo Clark Kent Evitiamo di far cretinate Bravissimi, signori Con calma, con calma Guarda, guarda Giardino Guarda Stevens Partito Stevens Che è lentissimo Però non ci interessa Perché tanto stiamo a vincere Quindi non dobbiamo più Tanto schiacciare Devono essere loro A venirci a prendere Calma, calma Giardino, Giardino Penso che tu non abbia Un bel tir No, tu non hai manco Le spalle per stare dritta Signori miei Non è riuscito neanche A resistere a un contrasto E allora Che cos'è? Il Barcellona È un calcio spettacolo Non esageriamo Non esageriamo Ti stronco la carriera Oh, ecco Occhio, 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 occhio Bravo Bravo così No, bravo così Cosa? 3 a 2 Ma porca miseria Muni per Keno Sì, sì Fammi entrare Keno A posto di piccolo Luna Dai, dai Attenzione La Zio Salli è partita La Zio Salli è partita Su quella fascia La Zio Salli è partita Su quella fascia Grandissima La sterza della Zio Salli La sterza della Zio Salli La palla Non passa In profondità No, perché ti sei fanno Guarda la Zio 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 82esimo, signori 82esimo Attenzione A Clark Kent Esci Portiero Grandissimo Loray 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 Io lo chiamo Loray Signori, signori Si chiama Loray 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 Il nostro partita è Loray Grande Grandissima No, ma porca miseria Ma tagli la giusta Innetto vantaggio Innetto vantaggio Attenzione A Le Zio Salli Attenzione A Le Zio Salli No, è Melone È Melone Su quella fascia Clark Se tutti noi Clark non gliela fa crossare Bravissimo Grandissimo Teniamo la palla Teniamo la calma con calma Teniamo la palla con calma Calma, calma, calma Minuti concitati, signori Non posso tagliare solamente nulla No, 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 no Sbragalo Bravissimo Guilding Kanon Aladino Aladino Per Le Zio Salli 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 Arriva fino a quasi in fondo Sterzatone Le Zio Salli Che vede Attenzione Attenzione Ma è fuori gioco No, non è fuori gioco Ma l'albino è fischiato Alla fine della partita Signori Tre punti portati a casa Grande così Grande così Buon 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 Va bene Sto con Aladino E Giardino Va bene così 3 a 1 Tre punti importantissimi Signori Ok Signori Partita andata Vediamo un attimo La classifica attuale Che ci vede Sesti Nuovamente Dopo 13 partite A 22 punti Buono L'abbiamo superato No, siamo a pari punti Con l'alziti Buono Buono Sta caricando Si Ci sta tre Ci vuole un po' di carbone In questa playstation Per farmi semplicemente Caricare la classifica Ok ce l'abbiamo fatta Allora siamo Sesti a 22 punti Ok Il primo Il Gillingham E a 26 Dai siamo a 4 punti Dal primo posto Non siamo proprio messi male Invece Invece Zona Zona Playoff Playout Il Gillingham A 14 Playmont A 11 Barton 7 Il Bristol Rovers A 6 Va bene Siamo messi abbastanza bene Va bene signori Allora Detto questo Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao